La Sicilia, una terra misteriosa, ricchissima E quindi fatevi una bella passeggiata per andare a vedere il cratere Il vulcano, la lava, i pesci, gli animali, il verde, il giallo, il sole, la tempesta, il freddo, il caldo, la ricotta E tutto quello che la Sicilia vi può offrire Da Scilla ai Caritti, dagli Arabi ai Greci, ai Normanni Non sappiamo esattamente chi siamo ma al tempo stesso siamo sicurissimi di sapere di che pasta siamo fatti Grazie a tutti